Ospite d'eccezione al Palazzo della Vicaria, accolto dal presidente Mario Alessio Lombardo e dal direttore artistico Michele Cossiro della San Rignana, ha visitato gli spazi del Museo di Arte Moderna e Contemporanea Bruno Corà, noto storico, critico e curatore d'arte, attuale presidente della Fondazione Burri. Docente di storia e dell'arte all'Università di Cassino, Corà ha curato gli incontri internazionali d'arte di Roma dal 1970. Giunto a Trapani ha visitato il museo apprezzando criticamente il valore delle 80 opere della collezione della San Rignana, costituita da 160 tra installazioni e quadri che vanno dal 1950 ad oggi. Arrivare a Trapani e trovare qui un segno determinato della volontà di avere un'estesa traccia dell'arte italiana, è già un segnale abbastanza impressionante, io non ho mai fatto questioni di latitudini, Trapani o la Val d'Aosta o Venezia per me sono la stessa cosa, però individuare qui questo segno di orgoglio anche artistico, culturale mi ha colpito, anche perché gli esempi che ho riscontrato, che ho osservato sono tutti quanti di eccellente qualità, quindi mettere insieme questo tipo di patrimonio ha molti significati e anche molte chance, molte possibilità di sviluppo e anche di rapporti, di comunicazione con altre istituzioni. La collezione nasce grazie al costante impegno del direttore artistico che sin dal 1979 ha scelto le opere e gli artisti, coordinando le acquisizioni e le tante generose donazioni. Questo incontro si inserisce in una serie di relazioni che la Salerniana sta cercando di stringere per dare nuovo smalto al museo che lo possa rilanciare sul panorama nazionale ed internazionale. Il museo è visitabile sei giorni su sette, dietro al pagamento del biglietto d'ingresso di 4 euro grazie alla collaborazione della cooperativa Astarte, professionisti nella gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali.